Ma si è avvalso anche lei della prescrizione, mi pare, vero? Per depenalizzarmi... No, finisci Travaglio, poi dopo devo dare la pubblicità. In un caso si è avvalso anche lui della prescrizione, mi pare sia vero. E dato che io non ho un Parlamento al mio servizio, che depenalizza i miei reati, che mi accorcia i termini di prescrizione e che fa altri magheggi nei quali questa maggioranza di cui la signora qui presente è un esponente di spicco fa, io quando vado sotto processo mi difendo e basta, e alla fine mi rimetto ai giudici. Perfetto, chiarissimo, devo dare la pubblicità. Dopodiché, Lilli, per essere molto chiari, se dobbiamo fare un processo ai miei processi, io porto le sentenze e faccio vedere di che cosa si tratta. Ma io credevo di essere stato invitato per parlare di quello che ha detto Berlusconi. E anche di quello che succederà domani alla Camera. E se non si può nemmeno dire che oggi Berlusconi ha detto di avere pagato Rubi per toglierla dal marciapiede e aprirle un centro estetico, perché la parola pagato offende la sensibilità della signora, io mi ritiro, fai sentire quello che ha detto Berlusconi e così almeno la signora si rassegna. Ma l'abbiamo già fatto sentire, è già stato fatto sentire anche nel telegiornale. Ma dato che dice che io mento, quando ripeto le stesse cose che ha detto lui, non so di che cosa dobbiamo parlare. No, infatti, per fortuna è tutto registrato. Onorevole Casellati, adesso devo dare la pubblicità e subito dopo torneremo a discutere su quello che ha detto Berlusconi, perché ne ha detto anche delle altre cose oggi. No, vorremmo parlare anche del processo del breve, cosiddetto breve. Domani, domani. Onorevole Casellati, secondo lei è normale che un Presidente del Consiglio tenga un comizio davanti al Tribunale contro i magistrati che lo devono giudicare, come è accaduto oggi con Berlusconi davanti al Tribunale di Milano? Non mi pare che abbia tenuto un comizio, certamente io credo che tutta questa serie di processi che sono finiti poi quasi tutti nel nulla, siano ragione per lui di una grande amarezza. Quindi io lo dico e lo ripeto, ho un grande rispetto per la magistratura, però c'è una piccola, piccolissima parte di questa magistratura che dal 1994 ha iniziato una serie di procedimenti contro di lui che riguardano poi fatti pregressi, cioè fatti che sono precedenti alla sua discesa in campo. Nonostante Travaglio dica continuamente a torto che Berlusconi ha avuto una serie tutta di procedimenti anche precedentemente alla sua discesa in campo, questo non corrisponde a verità perché una parte di questi iniziati sono archiviati, quindi non è stato neanche rinviato a giudizio e quindi sono stati tutte bolle di sapone. Quindi insomma questa specie di... Non esiste al mondo, credo, un Presidente del Consiglio che abbia avuto tutta una serie di procedimenti che poi non hanno avuto nessun tipo di riscontro e non si venga a dire perché abbiamo depenalizzato, perché bisogna spiegare alla gente cosa è il falso in bilancio. Aspetta, una cosa alla volta, intanto vorrei sentire Travaglio, visto che è stato tirato anche in ballo. Non sento più nulla. Travaglio, possiamo cercare di ripristinare il collegamento con Torino? Senta, onorevole Casellati, andiamo avanti in attesa che torni la linea con Torino. Ci senti Travaglio adesso? Ci sono. Ci sei. Allora, volevo chiederti, siccome stamattina Berlusconi ha fatto una sorta di comizio davanti al Tribunale di Milano, è andato contro la magistratura e i magistrati che lo devono giudicare, allora chiedevo alla onorevole Casellati se fosse normale che un Presidente del Consiglio si comportasse così. Ho sentito, ho sentito. Ma è la scena del Caimano, no? È la scena finale del film di Moretti che quando nel 2006 andò nelle sale fu presentata appunto come un incubo, anche diffamatorio, perché mai si sarebbe potuto immaginare che un imputato Presidente del Consiglio scateni, gazzarre, i tumulti davanti al Tribunale che lo sta giudicando. Credo che ci stiamo avvicinando a grandi passi verso quel momento, però non vorrei lasciar cadere alcune facezie che ho sentito prima che andasse via la linea audio. Intanto il Presidente del Consiglio Berlusconi ha avuto varie inchieste su di sé e sulle sue aziende ben prima di entrare in politica. Nel 1990, grazie all'amnistia, si salvò da sicura condanna per avere testimoniato il falso a Verona sulla sua iscrizione alla loggia P2 e nel 1992-1993... Era per diffamazione, aveva intentato un processo per diffamazione, quasi come lei. Si chiama falsa testimonianza, falsa testimonianza, ha giurato il falso in tribunale. Dicendo... Forse le sfugge la distinzione fra diffamazione e falsa testimonianza. Io sono laureata in giurisprudenza a differenza sua. E' quello che mi preoccupa. E' quello che mi preoccupa. Mi preoccupo per lei che racconta sempre favole in giro. E' un aggravante. E poi Travaglio... Comunque su internet... Lo trovo. Se la signora così gentile mi vuole lasciar parlare, dato che sono anche in collegamento, proseguo, altrimenti se continua con queste fastidiose cose... Avanti Travaglio. No, no, vai, vai. E se le canta e se le suona. Allora, nel 92-93 le indagini di Tangentopoli hanno coinvolto quasi tutte le aziende del gruppo Berlusconi e hanno portato in carcere, o sotto inchiesta, quasi tutti i principali collaboratori di Berlusconi. Quindi la verità è esattamente l'opposto a quello che ci viene raccontato. Non è che gli hanno fatto le indagini perché lui era sceso in campo. Lui è sceso in campo perché c'erano le indagini. Per quanto riguarda poi i processi finiti nel nulla, che lo avrebbero così irritato da portarlo a dare in escandescenze ancora oggi davanti al Tribunale di Milano, ricordo che in ben nove casi è stata acclarata la responsabilità penale del Presidente del Consiglio, una volta, come ho detto, si è salvato per amnistia dalla falsa testimonianza. Una volta si è salvato per amnistia da un falso in bilancio per l'acquisto dei terreni della villa di Maccherio. Due volte si è salvato per falso in bilancio avendo depenalizzato quella fattispecie di falso in bilancio. La sentenza porta scritto il fatto non è più previsto dalla legge come reato perché l'imputato lo aveva nel frattempo cancellato. In altri quattro, anzi cinque casi, ha beneficiato della prescrizione, e non per diffamazione o per reati di opinione, ma per reati gravissimi. 23 miliardi di finanziamenti illeciti a Craxi, processo Oliverian. Lodo Mondadori, corruzione di un giudice che è stato condannato insieme agli avvocati di Berlusconi che lo hanno corrotto. Falso in bilancio nel caso Lentini-Milan, falso in bilancio nel bilancio Fininvest 88-92, falso in bilancio del consolidato Fininvest per la bellezza di 1.500 miliardi di fondi neri. Tutte accuse infamanti che se lui avesse voluto l'assoluzione lo avrebbero dovuto indurre, visto che è un uomo pubblico, è un politico, è il capo del governo, a rinunciare alla prescrizione perché non era accusato di aver tirato su una veranda abusiva, era accusato di comprare giudici, era accusato di frodare il fisco, e invece lui ha intascato la prescrizione. Per queste ragioni i famosi processi sono finiti nel nulla, perché lui viene arrivato. Non può fare questo predicozzo leggendo questa cosa, voglio leggerlo anch'io. E no, perché scusi, non è giusto che si diano delle false notizie alla gente, perché per 17 reati su 22 è stato assolto. Allora, è stato completamente assolto nello SME a Riosto 1 e 2, nei terreni di Maccherio, tangenti alla guardia di finanza, addirittura archiviato, addirittura archiviato, Medusa Cinema lo stesso, archiviazioni per bilanci Fininvest, archiviazioni per consolidato Fininvest, archiviazioni per spartizione pubblicitaria Rai Fininvest, Oliverian 2, tangenti fiscali, tutte queste cose sono tutte state archiviate. Per quello che riguarda la prescrizione, anche qua da delle false notizie, perché sì, è vero che si è prescritto, però nell'Odo Mundadori, quello di cui sta parlando la corruzione giudiziaria... Aspetti, 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 che adesso le voglio far dire... Aspetti, aspetti, le voglio chiedere una cosa, onorevole Casellati. No, no, un'altra cosa. No, aspetti un attimo, adesso... È stato assolto, non si può dire quello che dice un sacco di bugie. È stato assolto prima e poi sei prescritto. Prima era assolto e poi sei prescritto. Posso fare una domanda a onorevole Casellati? Prescrizione in appello. Travaglio, mi fate fare una domanda rapida che poi voglio farvi vedere il punto. È stato assolto e poi prescritto. Onorevole Casellati, Berlusconi ha... Prescrizione in appello. Parliamo di una sentenza sull'Odo Mundadori. Era stato assolto in primo grado. Onorevole Casellati? Assolto in primo grado, dica la verità alla gente. Vabbè, allora do il punto e basta, o se no vi faccio togliere l'audio. Dica la verità alla gente. Prescrizione in appello. Assolto in primo grado. Ma quello che conta è l'ultima sentenza, non la prima. Ma se è stato assolto perché doveva essere condannato in appello. Ma mi faccia il piacere. Ma perché se è stato assolto in primo grado doveva essere condannato in appello. Ah, è più importante il primo grado che l'appello, secondo lei. È stato assolto. Ma in secondo grado si è prescritto perché i giudici non hanno portato a testa. Normalmente, allora onorevole Casellati, per cortesia, per cortesia. Allora Berlusconi, per onorevole Casellati, può essere un attimo, per favore. Grazie. Perché se no lo fa lei la trasmissione e io me ne avrò lei. No, perché era una barzelletta veramente da ridere. Allora Berlusconi ha definito la sentenza sull'Odo Mondadori una rapina a mano armata questo ieri. Perché Fininvest in primo grado è stata condannata a risarcire 750 milioni di euro alla CIR di Carlo De Benedetti. Ecco, lei userebbe le stesse parole e il problema è che è troppo alta la cifra o è sbagliata questa sentenza? Grazie.